Pochi minuti fa abbiamo appreso la terribile notizia della morte di Diego Armando Maradona. Davvero una notizia tragica in un anno pessimo. L'avevamo visto sofferente in qualche immagine di alcuni giorni fa, l'operazione, ma nessuno di noi poteva immaginare a 60 anni, da poco si era festeggiato il suo compleanno, un epilogo così drammatico. Maradona e Napoli, l'amore di Napoli e dei napoletani per Diego è viscerale. Nel 2017 per nostra volontà è divenuto cittadino onorario di Napoli, ma non era necessario un vincolo formale per dimostrare questo legame indissolubile. Però siamo contenti che nell'anagrafe della nostra città ci sia Diego Armando Maradona. Maradona attraverso di lui e attraverso il calcio, sembra incredibile, Napoli si riscattò con lo scudetto del 1987. Maradona è un uomo che ha unito tutti i napoletani, i napoletani di tutto il mondo, e ha unito anche i diffusi di altre squadre, se vogliamo, perché è stato il più grande e immenso calciatore di tutti i tempi. Un uomo anche discusso nella vita, ma per noi Maradona è quello che ha fatto sognare Napoli e i napoletani, con la sua genialità, con la sua unicità. Quindi ci ha dato felicità. Tanta gente ha chiamato i propri figli Diego per la capacità di quest'uomo di riscattare una città su cui calavano sempre pregiudizi e discriminazioni. Quindi oggi per Napoli è una giornata tristissima. L'abbraccio di tutti i napoletani per la famiglia e nella consapevolezza che quest'amore non finirà mai, perché è stato un amore vero, un amore grande.